o benvenuto tutti quanti ragazzi in questo nuovo video e siamo qui perché è uscita la bannet list tcg insomma del gioco di carte fisico qui abbiamo ragazzi il pedula come sempre per discutere parlare di questi tipi di bannet e qui ragazzi già vedete insomma una gazzella una gazzella perché appunto qui di fronte ragazzi abbiamo le prime le prime carte che sono andate a tre pedula che cosa possiamo dire a proposito di questa gazzella di questo araldo della luce della luce arancione più che altro carte abbastanza influenti nel meta gazzella mi sorprendo che non era già tornata a 2 a 3 nelle scorse bandis perché è riuscito leggendari due list 10 durante del vulcano ha dato un po di nuovi supporti pro gazzella siamo ancora uno ora che gazzella 3 da giocare comunque a due la vedo dura comunque giocare tre gazzelle anche dato non è però gazzella è il motore alla fine del mazzo comunque alla fine dice sempre la sua e sempre pur sempre gazzella insomma ci si c'è di indubbiamente carta e il coro del mazzo un po per cui poi solo con salaman rate of fire fa sempre le sue sporche figure comunque con le carte nuove riesce a fare la one card combo adesso del insomma per piazzare anche trappola con raging fenix sì ma quando fai lo spacca 4 goduria pure poi l'araldo arancione c'è insomma con un limitato a causa dell'escizzo principalmente per terlaments il fatto che torna 3 penso che freghi poco a nessuno cioè insomma ok torna 3 e via o draitro ma tanto chi gioca a draitro con tutti i bestial che ci sono in circolazione eh vedrai parlando di bestial in circolazione ah tu sai già quello che arriva dopo eh io so tutto so tutto ah beh allora ragazzi non possiamo fare altro che passare subito a quelle successive insomma ok qui abbiamo già invece eh abbiamo chaos space e bestial magnamut limitate dunque limitate ma aspettate dunque non c'è nessuna semilimitata a questo punto no nessuna è una piccola banlist ah piccola banlist per cui eh ok stavo scrivendo stavo scrivendo sbagliato perché insomma volevo mostrare appunto anche magnamut dato che abbiamo un chaos space piazzato qui davanti per cui volevo mostrarlo qui direttamente no eh comunque vista il magnamut e chaos space allora magnamut sappiamo benissimo che in giappone è già limitato per cui ci aspettavamo una hit di magnamut giusto sì ma chaos space allora chaos space io l'ho sempre anche buttato una carta OP da paura no fa troppo forte perché anche nel caso in cui ti veniva interrotto ti tiravano la solitaria su chaos space che di solito viene visto come meno due tu hai comunque mandato light on dark in cimitero per far partire il tuo engine assolutamente non cercavi partivi comunque tra bestial crollo serpente o l'altro ma poi il fatto anche che vai a rimischiare una carta da rimossa nel deck peschi uno tutto in un unico turno e non un effetto una volta turno per me è sempre stata una carta veramente OP da far schifo sì cioè ti ricicla l'extra gratis più che altro lo utilizzavi alla fine per quella ragione è rottissima per me è rottissima una limitazione che comunque per quanto riguarda dragon link ci sta che poi ok allora in questo caso qui abbiamo visto comunque magnamut limitato e chaos space limitati che sono delle hit comunque piuttosto forti però diciamo sono delle limitazioni che non impediscono al mazzo di giocare no no al contrario cioè avevo ancora tre saronir e tre lubelion tu puoi ancora fare cioè hai rallentato un po' quel riciclo quello che fa veramente male è chaos space assolutamente perché o magna 1 puoi giocarci cioè giochi o magna metti saro e otteni più o meno lo stesso risultato solo sei deleiato di una mossa che prima di andare al cimitero e poi inizierà a debbonare con regain o robe da dl in giappone hanno 2 svurma 1 hanno tutti a 1 anche valdry anna saroni anna saroni per cui allora tu mi hai detto che una banna è di piccolina per cui immagino che non ci sia gli ubelli un bannato non ci sia insomma non vedo cash tira carte limitati di cash tira limitate per ora per cui insomma stai ridendo sei un po' malvagio non dirmi che hanno bannato i ferri perché li ho sbustati tre dai tin eh che mi 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 salo eh vedrai 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 dunque ok possiamo passare alla prossima carta bannata insomma carta bannata insomma le carte bannate che è ah è proprio c'è proprio una c'è proprio a rhizard solo a rhizard solo a rhizard dunque bannate piccolina proprio per questo motivo qua sì c'è siamo tutti felici che non c'è più a rhizard non penso che qualcuno si la vedi allora la gente se ne è lamentata tantissimo ok allora io da quando l'annunciarono che lessi fa macrocosmo già mi sono impanicato perché io odio il macro ok per cui però non mi aspettavo il bann così di a rhizard cioè nel senso io mi aspettavo più limitazioni qualche limitazione al core del deck non con il bann diretto della carta da extra deck allora dal mio punto di vista questo qua è la classica manovra commerciale che fa konami perché non puoi lasciare un macrocosmo di engine stra facile da calare che tu tra un mese mi devi far uscire di abbellastare ihorus che letteralmente se l'oppo fa rhizard tu non puoi evocare di abbellastare perché di abbellastare entra per condizione evocazione quindi se non puoi mandare al cimitero per cui lui fa macrocosmo non la puoi neanche e non puoi usare il sarcofago per mandare ihorus da deck al cimitero per giocare per rebornarli questa mi sembra la classica manovra commerciale un po' che fa konami allora per me questa manovra commerciale o meno per quanto riguarda me che poi che coglione c'è scritto nei tag cash tier a rhizard sono proprio un imbecille cioè che poi vabbè stavo dicendo manovra commerciale a parte comunque che bannino un macrocosmo ambulante a me va sempre bene a me va sempre bene a prescindere dalla manovra commerciale era anche strafacile da calare veniva anche utilizzato in altri mazze rhizard ma qui soul ad esempio se partiva con feri il più borger andava anche lui a fare a rhizard certo assolutamente incredibile poi più che altro per quanto riguarda adesso cash tier possiamo dedurre che possa diventare un engine di supporto a moltissimi altri mazzi perché comunque sono comunque delle carte estremamente versatili tra unicorno feri e rebert possono fungere da livelli 7 che appunto entrano special a cazzo per cui possono possiamo fare hash baronessa possiamo puntare a fare dispater possiamo andare a fare un botto di cose comunque con loro come engine passato che ha avuto successo che utilizzava cash tier come engine era stato speedroid che ha avuto una top importante al nazionale americano mi ricordo mi ricordo però se a questo punto lo vedevi quasi come engine forse come mazzo puro può ancora provare a funzionare perché se comunque turbo rank 7 inizia a giocare di shangri era qualcosa forse se lo potrà inventare però ovviamente a rise art passo non esiste più bert è ancora una carta eh bert esiste ancora bert è una carta ma infatti io immaginavo che piuttosto toccassero una carta come bert perché è veramente rotta bert cioè bert diciamocelo è insieme a feri la carta più rotta del mazzo poi un'altra ragione per cui hanno bannato a rise art è dagov esce una trappola nuova di visas esceva che si chiama tipo lotus samsara che praticamente ti permetteva di tributare un visas e fare uno della famiglia degli art quindi kaleido art triart a rise art ok e tenetono in campo fino all'end se lasciavi questa trappola a rise art libro tu davi l'accesso a qualsiasi mazzo che giocava a visas di fare a mritara prendersi la trappola e farti un macrocosmo per il solo il tuo turno certo che poteva essere magari eventualmente tutte quelle cose magari da da side deck eventuali potenziali per i deck che soffrivano quelle quelle il macrocosmo insomma esatto praticamente ti fai uno shifter personalizzato per un turno che poi ser fastidioso sarebbe molto fastidioso benissimo direi che vabbè i miei fairier che ho sbustato dai team saliranno un botto così potrò potrò rivenderli così ne ho 5 non so cosa farmene e 2 li potrò gettare io mi aspettavo comunque che il fairier non lo toccassero me lo aspettavo perché appunto lot armor da team devono appunto l'altro fairier oltre a essere forte in castira dà un boost a tanti altri mazzi vedi un rescue ace vedi anche in anceso si giocava in pure si giocavano ogni mazzo adesso lo stavo usando per me stanno ancora un po' in circolazione ma a me fairier a me fairier come carta piace molto nel senso mi dà sicurezza e in più ti fa cedere delle combo in modo totalmente free e poi gioca da solo perché ti fa recuperare cioè è una carta comunque che per me allora lo vediamo in master duel che come predica cioè come predica insomma come esperienza poi abbiamo visto max c carta più forte per dire di master duel hash seconda carta più forte di sempre di yugioh genericamente perché comunque le vai a giocare ovunque e come avevo detto appunto anche ragazzi su master duel fangre sarebbe stata la terza carta più giocata in assoluto nonostante non fosse un ht per cui il fatto che abbiamo una terza carta che non è un ht ma è una carta che picchia gioca da sola fa control ha consistenza perché va ad auto aggiungersi può generare delle combo essendo di livello 7 eccetera eccetera secondo me Ferrer è una carta che semi limitata potrebbe starci limitata no mi piace proprio il fatto che proprio entra si aggiunge un'altra copia e fa pressione in campo è proprio a me piace a me gusta no ma ci sta allora preve una carta che prima o poi a uno bannata la si troverà ma poi anche come è stato pancreatop pancreatop è stato relativamente molto tempo libero mi piaceva pancreatops infatti io sono felice che resti per il momento a 3 perché non è troppo problematico più che altro adesso che è accessibile a tutti una carta che fa bene cioè non è una carta tossica non è una di quelle carte che dici ah vince da sola no no assolutamente è una carta che fa però pressione in campo però tutti la possono giocare come tutti possono giocare hash per dire no però invece di essere finalmente cioè perché alla fine le staple quali sono sono ht magie trappole goccioline trust talento tattico e tutte quelle carte lì e finalmente abbiamo una carta appunto fanglier che passato un anno quasi da double da queen blast dal suo esordio per l'appunto una carta che entra in campo fa pressione gioca da sola che può fare da engine e può generare combo eccetera è la cosa mi piace molto mi piaceva pancreatops per cui mi piace anche molto fanglier sì sì cioè più che altro fanglier forte anche perché giocarlo con in first con in second decide non decide ottima 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 va benissimo ragazzi detto questo ragazzi vi auguro che troviate fanglier nei team per giocarvi in qualsiasi deck voi vogliate che con qualsiasi tuner di livello 3 che possa essere un engine punk che possa essere un semplice hash che possa essere un ht generale generica eccetera eccetera con revolution synchron che potete far sincro 10 insomma tutto quello che volete avere insomma vi auguro di trovarlo e che lo possiate ragazzi giocare letteralmente in qualsiasi mazzo più o meno per cui vi auguro di trovarlo mi raccomando salire a di prezzo acquistatelo istantaneamente al momento in cui vedete questo video perché appunto sarà protagonista almeno dei miei mazzi prossimamente anche di altri mazzi comunque il giappone è bannato per questo non lo vedete nelle decklist giapponesi per cui sti cazzi detto sinceramente però noi ne potremmo abusare ringraziamo il pedula ciao a tutti e ricordatevi giocate a questo punto giocate Unshade prendetevi tutti i libri diventate la file trinelli e divertitevi cazzo Unshade è tutto libero non c'è niente di toccato fantastico va bene ragazzi anche Salamangreat costa no a questo punto se dovete pagare per comprare Salamangreat vi comprate Unshade ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ad una prossima banned e alla prossima col pedula ragazzi alla prossima aspettate che vi facciamo il salutino ragazzi con porca che cazzo ho scliccato niente ok perfetto vi facciamo il salutino col pedula gigante eccolo qua alla prossima